Nuovo podcast per parlare un po' di cambiamenti in ambito finanziario e questo è un argomento dal mio punto di vista molto importante, come sfruttare i cambiamenti nell'ambito finanziario. Ci sono dei momenti in cui l'economia ha delle proprie rivoluzioni, ma proprio il mondo intero cambia e quindi in ambito finanziario si possono sfruttare questi cambiamenti, chiaramente l'investimento come dico sempre è molto personale. Quindi anche tu devi essere convinto di questi cambiamenti, altrimenti poi l'asset finanziario quando incomincerà a essere volatile e quando c'è un cambiamento è abbastanza normale, questa volatilità sia in negativo sia in positivo, ebbene appena andrà in negativo automaticamente venderai. Quindi per sfruttare il cambiamento in ambito finanziario per forza di cose dovrai essere tu il primo a essere convinto di questo cambiamento. Ma essenzialmente di cosa parliamo? Facciamo degli esempi pratici, come lo sapete sono l'uomo degli esempi, gli esempi semplici, giusto per farvi capire cosa sono i cambiamenti nell'ambito mondiale, economico e finanziario. Ebbene, prendiamo l'ultimo esempio, quindi la pandemia, il coronavirus, ci siamo ancora dentro, ma questo inevitabilmente porterà dei cambiamenti. Pensiamo solo al tema legato alla digitalizzazione mondiale, pensiamo solo al tema legato a tutto l'ambito tecnologico e alle evoluzioni che avrà la tecnologia dopo la pandemia. Stavo chiaramente, mi stava venendo in mente anche un altro tema molto importante, l'ecologia, cioè tutto il tema delle energie alternative, che ha avuto un'eccellerazione incredibile direi nell'ultimo anno. Basta guardare i prodotti, le aziende che trattavano l'argomento, quindi hanno avuto veramente un boom e questo dovuto chiaramente essenzialmente a quello che è successo al coronavirus, che ha dato praticamente un'accelerazione a una direzione che forse già era ben chiara prima. Ma se per esempio andiamo a vedere l'ETF, quello più famoso, che parla di energie alternative, di energia pulita, ebbene per dieci anni aveva lateralizzato, appena c'è stata la pandemia praticamente ha fatto un boom. E possiamo parlare pure dei farmaceutici, un altro tema molto importante, tutte le spese legate nell'ambito farmaceutico, è stato sicuramente accelerato al coronavirus, tutti i temi legati all'SIG, quindi a un certo tipo di azione e possiamo andare avanti così. E' chiaro che poi bisogna che una persona sia convinta di quel cambiamento, nel senso che se poi compra quel prodotto, ripeto, al primo passo falso che farà quel prodotto, automaticamente si venderà, perché non ci si crede in quel prodotto là. Se invece uno crede, non so, nei tecnologici, perché pensa che sarà il futuro e che il mondo non potrà fare a meno della tecnologia, ebbene uno ci deve puntare per il futuro, nel senso per anni, indipendentemente dai cali che avrà. Tra l'altro ne stiamo avendo un esempio negli ultimi mesi, dove per esempio un indice che ha come riferimento la tecnologia, ma non solo il Nasdaq, sta calando molto, almeno rispetto ad altri mercati. E in questi casi si tende chiaramente a vendere. Stessa cosa potrei parlare di tutto quello legato alle energie alternative, che anche sta avendo un periodo di ribassi. E potrei andare avanti così. Stessa cosa è capitato in passato, se ci pensiamo. Pensate solamente alla rivoluzione di internet, cioè c'è un prima e un dopo internet, e si poteva chiaramente andarci, praticamente puntarci su quella tecnologia. Avreste guadagnato prima tanto e poi avreste subito una bella battuta di arresto su tutte le azioni legate ad internet dopo la bolla.com. Quindi è naturale che ogni cambiamento, ogni rivoluzione, poi si porta dietro anche tanta volatilità negli asset. Ma chi ha creduto in tutto quell'asset, quindi nel Nasdaq in questo caso, si è ritrovato prima con un grandissimo guadagno e poi con una grandissima perdita, però nel lungo periodo ha veramente fatto grandissimi guadagni. Potremmo parlare, non so, di quello che è successo dopo il 1999, il 2000, perché poi il 2001 è successo il crollo delle torri gemelle. Un'altra rivoluzione, da allora le spese in armamenti sono aumentate molto, ma veramente molto a livello mondiale, anche qui volendo uno poteva approfittare di questa situazione qui. Situazione che praticamente c'è stata per un bel po' di tempo e ancora tutt'oggi c'è di fatto una guerra fredda. Una volta lo si diceva della Russia e dell'America, oggi sicuramente lo si può dire dell'America e della Cina. E possiamo andare avanti parlando del 2008, di tutto quello che è successo nel 2008, tutto quello legato ai rate, quindi all'immobiliare. Bene, se uno credeva all'immobiliare, il immobiliare ha fatto un boom fino al 2008, poi un bel tonfo dopo nel 2008 e poi dopo però si è ripreso e si è ripreso alla grande. Se uno credeva in quell'asset, ebbene era il momento giusto. Stessa cosa potremmo parlare dei bancari nel 2008 e potremmo continuare così all'infinito, per esempio, ultimo esempio così chiudo e giusto per farvi capire essenzialmente di cosa parliamo quando parliamo di rivoluzioni, delle criptovalute. Ebbene, lì le criptovalute hanno rivoluzionato sicuramente un mercato. Basta vedere come c'è stato l'andamento degli ultimi sei mesi delle criptovalute e dell'oro, per dire di solito, in fasi come queste dove ci si aspetta alt'inflazione, l'oro esplodeva al rialzo, invece sta soffrendo solo ultimamente, si sta riprendendo un po' rispetto invece a delle criptovalute che veramente hanno fatto il boom in primis il bitcoin, ma non solo, se andiamo a vedere alcune criptovalute, hanno sovraperformato il bitcoin, non ultimo, ethereum, giusto per parlare delle due più famose. E quindi capite che nell'arco del tempo comunque ci sono delle rivoluzioni che sconvolgono l'ambito finanziario e ci si può approfittare, se si crede chiaramente, perché se uno non ci crede che le criptovalute saranno un asset che faranno guadagnare un sacco di soldi in futuro, è allora inutile che ci investe. E questo chiaramente è un discorso che vale per tutti gli asset finanziari, cosa che ne parliamo spesso anche sul gruppo che ricordo è cambiare tutto, cambiare subito, previsioni sull'economia, la finanza, e iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Se chiaramente volete approfittare di questa situazione e fare un piano proprio su qualcosa su cui siete convinti sarà il futuro, allora iscrivetevi al mio Patreon, patreon.com slash cambiaretutto, trovate tutto comunque nelle info, nella descrizione del podcast e potremmo insieme parlarne un po', e può essere che qualcosa ne esce, almeno avete l'opinione di una persona esperta che vi dice la sua, poi c'è lo swing trading, c'è i podcast privati, c'è un po' di servizio, ripeto, patreon.com slash cambiaretutto. E ragazzi, mi sembra di aver fatto un discorso chiaro di come approfittare di queste rivoluzioni qua, ce ne sono state tante, ne ho citate tante degli ultimi 20 anni, ce ne saranno altrettanto già nei prossimi 10 dal mio punto di vista, basta vedere un tema molto legato alle criptovalute come gli NFT, giusto per citare il primo che mi viene in mente, che si è elevato agli onori delle croniche negli ultimi mesi, ebbene, c'è tanta carne a fuoco, quindi se si crede a certe cose, approfittatene e approfittatene per il lungo periodo. Ragazzi, con questo è proprio tutto, a me non resta che ricordarvi che, come al solito, siete sempre sotto il fuoco nemico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fa molto tempo. Grazie a tutti.